Come rendere le future città del benvivere attraverso scuola, formazione, politiche urbane, innovazione e sanità? Di questo si è parlato qualche giorno fa al convivio San Nicola con illustri relatori. C'era Dino Borri, assessore al comune di Brindisi, Sabino Lafasciano, dirigente scolastico e felice spaccavento. 49enne anestesista, residente a Biceie e candidato alle prossime regionali. Si presenterà infatti nella lista Puglia Solidale e Verde a sostegno del presidente uscente Michele Emiliano. Scienza e coscienza sono le sue parole d'ordine. Io mi presento a questa tornata perché ritengo sia necessario portare a livello del Consiglio regionale competenza. Penso che tutti dovrebbero ambire a portare i consiglieri più competenti del loro schieramento in Consiglio per portare scienza e anche coscienza. Scienza e coscienza sono fondamentali quando si parla di un campo minato come quello della sanità. La sanità è in continuo cambiamento. Tre anni fa non si parlava di telemedicina, non si parlava di sanità a domicilio. Oggi la sanità ha uno sconvolgimento veloce e quindi secondo me bisogna farsi trovare preparati e bisogna soprattutto sfruttare tutte le possibilità che l'esperienza e il confronto con le varie regioni e anche al di fuori dall'Italia ci possono dare per migliorare la sanità in Puglia. E proprio parlando con spaccavento è inevitabile fare un bilancio di quella che è stata la sanità negli ultimi cinque anni. Secondo me le ombre sono il fatto che il Presidente Emiliano pur con le sue ragioni ha tenuto a sé un assessorato estremamente forte e importante. Le luci invece sono assolutamente quello di aver stabilito una rete oncologica. Prima i nostri pazienti andavano al nord per essere operati e per fare terapie e ritornavano qua solo per morire. Attualmente invece non solo guariscono, vengono seguiti dalla nostra rete oncologica e ci sono dei centri importanti come l'oncologico di Bari che fanno numeri da far paura. Quindi si sta riducendo quella mobilità che c'era prima verso le regioni del nord. Un'altra importante operazione è quella delle reti dello STEMI. Attualmente di infarto si muore pochissimo perché c'è stata l'idea di portare la diagnosi in ambulanza con il 118 e poi l'ambulanza stessa ti porta il paziente nei centri di emodinamica più vicini e quindi risolutivi per il paziente. Non si muore più di infarto o si muore molto meno rispetto a prima. Questo secondo me è una grande conquista che abbiamo avuto in Puglia. E restando sempre in tema i soldi del MES secondo il candidato darebbero un grosso contributo. I finanziamenti che ci servono e soprattutto utilizzandoli al meglio, soprattutto in progetti già stabiliti e non che si inventano solo per acquisire denaro, ma con delle idee molto chiare, con visioni della sanità già chiare, tutto può essere assolutamente favorevole per migliorare il nostro percorso sanitario.